Amici telespettatori ben ritrovati con l'informazione di RTC Quarta Rete. Quest'oggi in apertura abbiamo la relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria delle regioni e delle province autonome per gli esercizi dal 2019 al 2022. A tal proposito il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone ha voluto sottolineare come la regione Campania risulti nelle ultime posizioni in diversi ambiti. Vediamo il servizio. La regione Campania è la seconda regione più povera d'Italia con un reddito pro capite di 14.513 euro che guarda dalla coda della gradatoria alla regione Lombardia che come di consueto si attesta invece in cima alla classifica con circa 24.000 euro. Sono dati questi tratti dalla relazione sulla gestione finanziaria delle regioni e province autonome elaborata dalla Corte dei Conti ed evidenziati sul piano politico dal senatore Antonio Iannone di Fratelli d'Italia, il quale attribuisce la responsabilità di questo triste primato al governatore Vincenzo De Luca. Il senatore Iannone, anche sui social, è solito esternare le sue invettive contro il presidente della regione per sottolineare presunte inefficienze o per denigrare l'operato del governatore. Già tre giorni fa un analogo comunicato pubblicato sui social che traeva spunto dalla medesima redazione della Corte dei Conti, con il quale Iannone dichiarava che la Campania è fanalino di coda in Italia per quanto concerne la spesa pubblica regionale per la cultura. 2,7 euro per ogni residente rispetto alla media nazionale di 17,3 euro, dati che certificano il totale disinteresse di De Luca per un settore, la cultura appunto, come dichiara Iannone, di fondamentale importanza per la nostra regione. Dalla cultura Iannone passava quindi alla sanità, attribuendo ancora al governatore un indice di spesa molto basso. Così dichiarava il senatore di Fratelli d'Italia. In Campania la spesa pro capite per la sanità è di 1.957 euro, tra le più basse d'Italia, inferiore alla media nazionale e addirittura anche a quella del mezzogiorno. Ad animare quindi il dibattito politico di Ferragosto in Campania sono i numeri, cifre che in verità neanche in un passato più lontano hanno mai certificato la Campania ai primi posti di queste graduatorie. Secondo l'Istat, poi, la ricchezza pro capite ha visto la regione perdere 36 posizioni nella classifica continentale negli ultimi 20 anni circa. Nel 2000 occupava il 165esimo posto nella classifica delle regioni europee, tra le 242 prese in considerazione per osservare i tassi di crescita del PIL pro capite nell'Unione Europea. Nel 2007 la Campania scendeva dalla posizione 165 alla 180, nel 2014 alla 197 e nel 2021 al gradino numero 201, perdendo per l'appunto 36 posizioni in circa 20 anni. A cavare i tirreni il sindaco Vincenzo Servalli ha fatto il punto sul contratto di quartiere. Vediamo. Sono in corso le opere di urbanizzazione per il contratto di quartiere a pregiato. A cavare i tirreni dovrebbero essere risolte in questa maniera alcune problematiche di viabilità che da tempo condizionano i cittadini e soprattutto chi attraversa quelle zone per la prima volta e le conosce meno. A pregiato è in corso un intervento per 2 milioni e 700 mila euro per la realizzazione di un grande parcheggio funzionale al Palaeventi, che nella visione del sindaco dovrebbe venire utile al servizio dei cittadini. Lo ha affermato proprio Vincenzo Servalli, il sindaco di Cava, nel corso della nostra trasmissione dal primo al cittadino. Abbiamo mantenuto faticosamente le risorse, tuttavia insieme al Ministero e alla Regione Campania abbiamo dovuto riprogrammare gli interventi. «È un lavoro molto complesso, ma da settembre ci confronteremo definitivamente col Ministero per avere il via libera a questa riprogrammazione per l'utilizzazione di questi fondi», ha detto il sindaco di Cava. «La frazione pregiata è una frazione importante, è uno snudo per tante cose vitale per la nostra comunità e certamente non la sottovalutiamo e ci teniamo molto. Ecco, una frazione a cui teniamo molto, con l'occasione per salutare il parroco Don Luigi, che spesso mi chiama e che devo andare a trovare». E il sindaco ha in testa anche l'idea di una strada di collegamento tra via Santoriello e via De Filippis, che contribuirebbe a snellire molto il traffico che si crea in quell'arteria. Come Servalli ha detto, la sua idea sarebbe quella di poter realizzare il senso unico di marcia da quella parte della città, data la difficoltà sempre crescente a sostenere la situazione. Ci viene in mente che già una decina di anni addietro, nel corso di una consigliatura precedente a quella di Servalli, l'allora primo cittadino Marco Galdi, già all'epoca propose una sorta di referendum consultivo ai residenti di pregiato, se sarebbero stati o meno favorevoli all'istituzione del senso unico alternato su via Luigi Ferrara, che è la strada che collega via De Filippis e via Santoriello, quindi una strada molto molto lunga, passando per il campo sportivo, ma che in alcuni punti si presenta stretta e perciò scarsamente attrezzata per il doppio senso di marcia, e la maggioranza dei cittadini disse no. Chissà stavolta come si arriverà a decongestionare il traffico da quella parte della città. La cronaca, incidente automobilistico nella tarda serata di ieri ad Albanella, un giovane di 23 anni di mercato San Severino, ha investito con la propria auto una ragazza di 13 anni in via Giovanni XXIII, mentre con alcune amiche attraversava la strada. Il giovane si è subito impegnato nel soccorrerla. La ragazza è stata trasportata in ospedale con intervento del 118 e nonostante il forte impatto non sarebbe in pericolo di vita. Ha riportato comunque gravi ferite. Siamo tornati in studio. È stata riaperta la statale 163 Amalfitana a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Intanto il sindaco di Maiori, con un comunicato, si scaglia contro i piromani, autori di veri e propri atti criminali. Ieri in serata è stata riaperta la statale 163 Amalfitana con la modalità del senso unico alternato come da ordinanza ANAS. Nel frattempo i lavori di polizia e messa in sicurezza della statale sono stati ultimati con successo. Il trasporto pubblico sita seguirà il regolare calendario orario sulla tratta Amalfi-Salerno e viceversa. La conferenza dei sindaci della Costiera ringraziano pertanto la ditta che ha lavorato ininterrottamente da ieri sera per garantire la riapertura della strada in sicurezza. Gli agenti della Polizia Municipale di Maiori, Cetara e Vietri sul Mare. I nuclei comunali Protezione Civile della città di Maiori e del comune di Cetara. Le associazioni Millennium e i Colibri. La comunità montana Montilattari e Vigili a Fuoco e il DOS, il direttore dell'operazione di spegnimento. Torno intanto le dichiarazioni del sindaco di Maiori Capone. Il mio messaggio in occasione di Ferragosto è rivolto ai criminali che puntano a rovinare la serenità del periodo distruggendo la natura con pericolosi incendi che provocano sofferenza, pericoli oltre che disagi e danni in mani. Le azioni scelerate che riservate al patrimonio naturale hanno e avranno conseguenze in mani su tutti purtroppo oggi e domani. Il mio augurio per questi giorni, così come per quelli futuri, è quello di non dover più ascoltare i suoni dei mezzi destinati agli incendi, ma solo risate felici di persone che si godono l'estate e la bellezza della nostra amata costiera marfitana. E quanto ha scritto nella parte finale del post pubblicato sul profilo Facebook del comune. Cane investito a Nocera Superiore. A diffondere la notizia è stata Annalisa Carleo, attivista e garante per la tutela degli animali. Il sinistro è avvenuto lungo via nazionale. Stando alle informazioni, chi ha travolto l'animale mentre era in auto non si sarebbe neanche fermato per un soccorso. Il cane è stato invece soccorso da alcuni passanti che lo hanno trasferito dal veterinario. Nelle prime ore della mattinata di oggi è stato necessario l'intervento delle squadre dell'ANAS e delle Forze dell'Ordine sul tratto dell'autostrada A2, la Salerno-Reggio Calabria, tra gli svincoli di Ponte Cagnano Nord e San Mango-Piemonte. Il tratto in questione è stato chiuso al traffico a causa della presenza di una mucca vagante. Già intorno alle 9 però la circolazione veicolare è stata ripristinata regolarmente. Avvertenze e consigli delle Forze dell'Ordine in vista di possibili furti di auto o in appartamento in occasione del Ferragosto. Gli anziani rappresentano anche soggetti a rischio per eventuali truffe telefoniche. Cittadini in vacanza, ma i ladri non vanno in feria a Ferragosto ed il periodo delle vacanze estive rappresenta senza alcun dubbio un periodo dell'anno appetibile per i malviventi. I topi d'appartamento sono sempre in agguato, sempre più durante questo periodo studiano, è il caso di dirlo, interi quartieri, le abitudini dei residenti, i movimenti che si compiono. Carabinieri e Polizia di Stato, oltre ad aver già intensificato maggiormente durante questo periodo l'attività di controllo del territorio, invitano i cittadini ad assicurarsi di prestare attenzione, diffondendo una serie di consigli utili per difendersi anche dai ladri di auto e dai truffatori. È il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Salerno, il colonnello Filippo Melchiorre, ai nostri microfoni, a rivolgersi ai cittadini, invitando tutti a prestare maggiore attenzione ed in modo particolare alle persone sole ed anziane a non farsi ingannare dagli eventuali interlocutori telefonici che sono abilissimi a frastornare le vittime con toni e linguaggio estremamente convincenti. Spesso i truffatori cercano le loro vittime consultando le pagine bianche, in tarda mattinata e nel primo pomeriggio gli orari più a rischio per gli anziani nel ricevere questi tipi di telefonate. Ci possiamo fermare per qualche istante. Marco mi sa che dobbiamo pagare la rata dell'Ausino. Le nostre proposte di fornitura di gas metano ed energia elettrica saranno personalizzate con la tipologia di utilizzo. Che tu sia un artigiano, un commerciante, un ristoratore garantiamo tariffe chiare e trasparenti, professionalità e tutta l'assistenza di cui hai bisogno. Tirreni Energia, invia Vittorio Veneto numero 158 a Cava dei Tirreni. Il Tg di RTC Quarta Rete cambia fisionomia. Farà sempre informazione, ovviamente, ma vuole fungere anche da cassa di risonanza delle vostre opinioni, dare voce ai problemi che vorrete segnalarci. Potrete farlo attraverso il numero di WhatsApp che vedete in sovrimpressione o farvi intervistare per la rubrica La Voce della Strada, che troverà spazio all'interno del nostro telegiornale. Grazie per la visione! Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni In montagna, parzialmente nuvoloso, con schierite prevalenti Siamo tornati in studio Roberto Mancini non è più il selezionatore della Nazionale Italiana di Calcio Ha rassegnato le dimissioni ieri Il tecnico Iesino lascia con un trofeo vinto il campionato europeo nel 2021 Sentiamo le opinioni della gente su questa scelta fatta dall'ormai ex CT E' di ieri pomeriggio la notizia che Roberto Mancini ha rassegnato le dimissioni Da selezionatore della Nazionale Italiana di Calcio Una notizia che sicuramente non tutti si aspettavano Però abbiamo anche ascoltato il parere della gente che abbiamo incontrato in centro a Cava Sentiamone qualcuno E' una sorpresa che io non me l'aspettavo Poi giorni fa si era fatto tutto il suo organismo Ma anche era entrato Buffon Purtroppo, come si è parlato stamattina Ho sentito molti commenti Il 99% Va a prendere i soldi Dove stanno i cieli Non è come ha detto lui E' una questione personale Personale che devo dire Io sto trattando con quelli là Vedrete la sorpresa Mancini fra 15-20 giorni accetta la Nazionale Lì, dove sono i soldi E se ne va E chi vorrebbe come successore del selezionatore? Io della Spalletta e Conte preferirei più a Conte Mio parere personale Più a Conte che a Spalletta Che poi esce un'altra persona di sorpresa Non lo so L'allenatore era così preoccupato? No, non penso che Mancini era preoccupato di come stavano andando le cose Perché veniva messo sempre in discussione Però penso che Tra qualche giorno Penso già domani Penso si saprà il nome dell'allenatore Penso Spalletti Non pensavo che Facesse un gesto del genere I motivi non me li spiego Però penso che pure lui Si è attratto dalle sirene arabe Quindi Sarà certamente per questo Comunque Speriamo che riescano a prendere una figura Altrettanto Brava E a livello Insomma Perché la nostra Nazionale Merita di andare almeno Ai prossimi mondiali Ecco Ora Il prossimo selezionatore Avrà un compito difficile Perché l'Italia è campione d'Europa In carica Vinto nel 2021 Che non vinceva il titolo dal 68 Non ha partecipato Agli ultimi due mondiali Quindi Chi dovrà prendere Questa patata bollente Avrà comunque il compito Di portare risultati Sì Certamente Ma penso che si orienteranno Sicuramente Su una figura tipo Conte Oppure Spalletti Perché non penso Che venderanno Una persona Proprio per il fatto Di dover andare Per forza I mondiali Quindi Dovranno Prendere una figura Di livello Di spessore Diciamo Preferirebbe Un allenatore Emergente O uno che ha Già vinto Trofei Come allenatore Nella sua carriera Se vogliamo tornare Ad essere una nazionale Importante Io preferirei Un allenatore Esperto Che ha già vinto Anche i campionati In Serie A Come hanno detto Spalletti Ma non sono troppo Convinta Anche Conte Ha vinto Scudetti Conte lo vedo Più allenatore Più battagliere Come diciamo noi A me piace Conte Quindi dobbiamo tornare A qualificarci Possibilmente al mondiale Oltre che all'europeo Certo Quest'anno abbiamo fatto Una brutta figura Per rappresentare l'Italia Però io non voglio dare la colpa Né a Mancini Né a quello che verranno In Italia Bisogna mettere l'obbligo Di far giocare Più giovani italiani Sono rimasto sorpreso Per questo Ma comunque Io Con Roberto Mancini Diciamo che abbiamo fatto Qualche cosa di buono Non è che Anche quando abbiamo vinto Il campionato europeo Non è che abbiamo fatto Chi sa che Anche quando abbiamo fatto Quella sfogliata Di risultati utili Trenta partite Non mi ricordo quando Non è che Ci vuole un allenatore Di categoria Di qualità A parte un po' sanguigno Un po' sanguigno Ogni cosa Ci vuole sempre Una persona molto Che stimoli i giocatori Gli stimoli Se no Avrei i suoi pregi Mancini Tutti quelli che dicono Gli altri A me Non è che piace tanto Come giocatore Era bravo Ma come allenatore Abbiamo vinto Un campionato europeo Che non so neanche io Riferisce questa politica Di naturalizzare i giocatori Oppure Devono essere italiani Al 100% Secondo lei Secondo me Dovrebbero essere Quasi tutti italiani Al 100% Per mettere al centrafanto Uno che non so Dove giocare Devono essere italiani Devono sentire la partita Devono avere nel sangue La voglia di giocare Quella gente lì Sì fanno così La magia Quando fanno così Fanno L'ultima Abbiamo fatto tre punti Due partite di qualificazione Ce ne sono poi delle altre Da settembre Bisogna fare un miracolo Per arrivare ai primi due posti Della qualificazione Se prendono Se mettono al posto Di mancino Non so Una persona Molta Ce la possiamo fare La Cavesi ha lasciato domenica Il ritiro di Camigliatello Silano E proseguirà la propria preparazione In Campania La Cavesi ha salutato Nello scorso weekend Il ritiro di Camigliatello Silano I Bianco Blu Hanno potuto svolgere Solo due test Per poter verificare Il livello di apprendimento Negli schemi Da parte dei giocatori A disposizione di Daniele Cinelli Quello contro il Di Pignano Finito 10-0 Per la Cavese E l'altro con la Rossanese Vinto 8-0 Dai Metelliani Tra i giocatori più vogliosi Di dimostrare qualità E impegno Fellica E Cirofoggia Ma anche gli esterni Di difesa Impiegati tra l'altro In posizioni inedite Come 5 E Rana Dopo aver lavorato Molto sulla condizione Atletica Dei giocatori Dopo aver lavorato Anche sotto l'aspetto Tattico Su un modulo diverso Da quello della scorsa stagione La squadra Si riposa fino a mercoledì Dopodiché Riprenderà ad allenarsi Giovedì Al Simonetta Lamberti Il primo impegno ufficiale Sarà per la Cavese Il 3 settembre Nella partita di Coppa Con una squadra Al momento sconosciuta Poi Il campionato di Serie D Inizierà domenica 10 Ma occorrerà Recuperare Brillantezza Nei muscoli E comunque Continuare a rafforzare Determinati principi A questo scopo Si cercherà Di organizzare Per domenica 20 agosto Un nuovo test Possibilmente a Lamberti Magari con un'altra Squadra di D Per poter avere Indicazioni un po' più precise Poi La società Provvederà A lanciare La campagna Di abbonamenti Il telegiornale Terminato L'informazione Di RT5 Arte Ritorna Alle prossime edizioni Grazie per la cortese Attenzione Buon proseguimento Con i nostri programmi Grazie per la visione